ciao cari ragazzi ben ritrovati oggi andremo a vedere insieme come grazie al dlc volte workshop potremo aumentare tutti i nostri parametri special questa lista cosa importante ragazzi aumentare temporaneamente innanzitutto e non potremo aumentarli tutti e sette assieme faccio un esempio se vado aumentare la forza quindi da 10 la porta 11 e poi voglio passare al carisma la forza mi tornerà 10 e il carisma mi andrà 12 e così via anche per gli altri ok andiamo a vedere comunque come riuscirci allora partendo da forza e proseguendo la lista abbiamo forza appunto panca per pesi poi abbiamo percezione il forottero costituzione power cycle 1000 carisma sedia da barbiere intelligenza scrivania del soprintendente agilità la cavallina che la nostra colonna sta usando e per concludere fortuna la slot machine andiamo a vedere come ottenerli in maniera anche molto semplice entriamo in modalità officina su risorse poi volt abbiamo 3d7 power cycle forottero e slot machine ognuno di questi come credo già saprete l'abbiamo ottenuti grazie a una determinata questa poi sempre su risorse ma varie abbiamo la sedia da barbiere abbiamo anche quella per chirurgia ma non ci occorre eccola qua ne ho già ne ho piazza le tre già praticamente poi andiamo su mobili e varie e possiamo costruire la panca e la cavallina ecco qua la panca ed ecco qua la cavallina e poi ultimo ma non scrivania del soprintendente l'abbiamo anche su tavoli eccola qua ma non serve questa serve quella che possiamo ottenere anzi che dobbiamo ottenere grazie alla quest un cittadino modello la differenza è che una al terminale e una no e noi quello che serve è proprio il terminale andiamo a provarli e iniziamo sempre da forza quindi panca per pesi basta un secondo ecco fatto proseguiamo sempre la lista quindi percezione forottero ok power cycle quindi la cyclette per la costituzione poi andiamo a darci una spuntatina dal barbiere nuovo taglio e noi ci accomodiamo cambiamo stile facciamo rifacciamo il megaton megaton carisma fatto intelligenza quindi dicevamo scrivani del soprintendente togliamo un attimo valeri dalle balle e lo utilizziamo noi anche questo basta un secondo ecco qua poi abbiamo la cavallina molto carina da vedere tra l'altro movimenti molto carini da vedere poi siamo in periodo olimpiadi stanno stanno per iniziare però alex ormai mi sa che sarà per la prossima tra quattro anni e per finire come dicevamo la fortuna ok ecco tutti e sette idea a mio parere senza dubbio molto carina e senza dubbio azzeccata a me ha fatto piacere che l'hanno aggiunta insomma spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo magari non eravata a conoscenza di tutti e sette per ora ci salutiamo qua e ci sentiamo al prossimo video bye bye ciao 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 ciao